Sarà possibile pagare in più rate le fatture superiori a 150 euro. L'agevolazione di Estra a favore di famiglie e imprese riguarda le bollette luce e gas emesse dal 1 gennaio al 31 marzo. Accordo tra Estracom, la società di telecomunicazione di Estra, e Fiber Connect per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga e portare la fibra ottica dentro le aziende delle principali aree industriali toscane. Torna i Cap Estra, il concorso digitale con 10 premi di 5.000 euro per società sportive giovanili semi e non professionistiche promosso in partnership con Decathlon, Fiorentina, Lube Volley e Guelfi Football. La transizione energetica fa scuola, iscrizione aperte al programma di alternanza scuola-lavoro, il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento promosso da Estra con l'ITS Energia e Ambiente.